Una volta conclusa la progettazione inizia la vera e propria fase di produzione dei contenuti. Questa fase inizia con la stesura dell'indice complessivo del corso. E' ancora un momento a cavallo tra la fase di progettazione e quella di produzione, perché è anche il momento in cui si definiscono i formati dei materiali e delle attività che si andranno ad inserire. È il momento in cui si inizia a dare forma alla struttura del corso. In questo modo si ha la possibilità di avere uno sguardo globale su tutti gli argomenti che si vogliono trattare all'interno del MOOC. Nella definizione del formato dei materiali un'attenzione particolare deve essere dedicata al livello di coerenza grafica, in modo che l'utente non si trovi disorientato nel suo percorso attraverso i contenuti. Questo significa che è meglio scegliere un tipo di formato che andrà ad adattarsi almeno alla maggior parte dei materiali proposti, in particolare a quelli video. Consideriamo ad esempio il caso dei video. Sarà necessario definire diversi parametri legati al set di registrazione, mezzo busto o figura intera, ripresa dall'alto per evidenziare quello che un docente scrive oppure frontale per focalizzare maggiormente sulla sua espressività? Quale sfondo? È necessario prevedere dello spazio per inserire elementi grafici o testuali in post-produzione? Bisogna quindi definire lo stile che avranno i video, tenendo conto del target d'utenza, dei contenuti, del materiale già disponibile, delle risorse utilizzabili, delle scadenze temporali e naturalmente anche delle preferenze personali del docente. Costruire ogni singolo video significa, ad un livello più micro, ripercorrere le fasi di progettazione e produzione definite a livello macro per l'intero MOOC, definizione dello scopo del video e l'individuazione dei risultati di apprendimento attesi di quella singola lezione. Bisognerà poi supportare il docente nella creazione di uno storyboard, che sarà la traccia da seguire durante la registrazione, può essere letta tramite l'utilizzo di un gobbo. Per garantire una coerenza generale, il docente può scrivere lo storyboard prevedendo queste tre fasi. Fase iniziale, fase in cui si introduce brevemente l'argomento della lezione, suscitando l'interesse dell'utente. Svolgimento, parte centrale in cui si sviluppano i contenuti trattati. Fase finale, fase in cui è utile focalizzare l'attenzione sui concetti che si ritengono fondamentali. Nel progettare uno storyboard è utile calibrare la durata del video in base agli obiettivi che si vogliono raggiungere. Di solito, più un video è lungo e meno viene fruito nella sua interezza dagli utenti. Nella nostra esperienza maturata con POC, abbiamo valutato che un video che supera oltre i 7-8 minuti risulta meno efficace. Eventualmente può essere utile dividere il video in due parti. Per questo motivo è meglio progettarlo con cura, per avere la sicurezza di esporre tutti i contenuti nel modo più esaustivo e al tempo stesso più breve possibile. Inoltre, è utile pensare di arricchirlo con animazioni che favoriscono una migliore comprensione e aiutano a mantenere viva l'attenzione. La struttura dello storyboard è cruciale per il successo del video didattico. I large language models come chat GPT, BARD, eccetera, possono essere d'aiuto nel delineare una struttura logica e coerente, suggerendo una sequenza efficace di introduzione, sviluppo e conclusione, oltre ad indicare i momenti chiave in cui inserire elementi interattivi o transizioni importanti. Esploriamo rapidamente le attività chiave in cui possono essere utilizzati. Scrittura dei dialoghi e dei testi. Chat GPT o strumenti simili possono essere utilizzati per scrivere dialoghi, spiegazioni e testi da includere nello storyboard. Grazie alla loro capacità di generare testi fluidi e comprensibili, è possibile creare contenuti didattici che siano allo stesso tempo informativi e coinvolgenti. Suggerimenti per le visualizzazioni. Per ogni segmento di testo, strumenti come chat GPT possono inoltre offrire suggerimenti su come tradurre concetti e idee in elementi visivi efficaci. Questo può includere proposte per grafici, immagini, animazioni o scenografie che facilitano la comprensione dei concetti chiave. Feedback e revisione. Infine, i large language models come chat GPT possono essere utilizzati come uno strumento di revisione preliminare, fornendo feedback sui contenuti degli storyboard. Sebbene questo feedback non possa sostituire la revisione umana, può offrire una prima valutazione della coerenza, della chiarezza e dell'engagement dei contenuti proposti. Infine, bisogna porre l'attenzione su un ultimo argomento che riguarda la produzione di tutti i materiali visuali, non solo i video. L'accessibilità. Per rendere accessibile un MOOC si fa riferimento agli strumenti utilizzati per l'accessibilità di un sito internet, per il quale si introducono alternative, solitamente testuali, agli elementi visuali, che potrebbero rendere difficile la fruizione di una pagina web alle persone con disabilità, in particolare visive e uditive. L'inserimento di queste alternative testuali permette, per esempio, ai non vedenti di poter comunque cogliere il significato veicolato dalle immagini. A questo proposito, è utile introdurre il concetto di tag alt, dove alt sta per alternativo. Un insieme di parole che viene aggiunto nel codice HTML per dare un significato a una grafica, a una foto o comunque a un contenuto visuale, che per qualche motivo non può essere percepito dall'utente. I tag alt aiutano coloro che utilizzano gli screen reader a comprendere il contenuto grafico. Un testo alternativo di qualità è una breve descrizione che spiega non solo ciò che l'immagine presenta, ma anche il suo scopo all'interno della pagina. È necessario rendere accessibili anche i video del corso e questo significa assicurarsi che vi sia un testo che possa far comprendere il contenuto del video. Se si dispone del testo integrale di un video, sarà utile quindi prevedere di inserire i sottotitoli e caricare all'interno della piattaforma le trascrizioni dei video, chiamati transcript, e renderli scaricabili. Aggiungere i sottotitoli aiuta a comprenderne meglio il contenuto non solo alle persone con disabilità, ma anche a chi non conosce perfettamente la lingua del video. Come si può intuire da tutto quello che abbiamo detto, le fasi di creazione e caricamento dei contenuti sono quelle più delicate, alle quali è opportuno dedicare molta attenzione. Una volta terminate, si procede con il debug, ovvero la procedura attraverso cui individuare e correggere eventuali errori. Quando ogni aspetto del MOOC è stato controllato, allora si può procedere con la sua pubblicazione. Grazie a tutti.